Visionottica Saracino, occhiali da vista e da sole, centro applicazione lenti a contatto di tutti i tipi, centro specializzato per lenti progressive. Con le nostre promozioni torni a fare ciò che ami e ora di vederci in sicurezza. Sconti dal 20 al 50% su occhiali da vista e da sole. Buono fino a 100 euro per i tuoi nuovi occhiali e puoi tornare alle tue partitelle. Occhiale vista sole, clip-on da 139 euro e puoi tornare alle tue gite. Occhiale polaroid da 39 euro e puoi tornare alle tue avventure. 3 più 1 lenti a contatto giornaliere, visionottica e puoi tornare a goderti l'aria aperta. Visionottica Saracino, dal 1967, qualità, professionalità e convenienza al servizio del cliente. Ci aspettiamo in Viale Liguria 44 Taranto.